Dopo un'analisi dei recenti incidenti, anche con esito mortale, ma anche per verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza da parte degli utenti in transito sull'autostrada Siracusa-Catania, la Polizia Stradale ha eseguito un controllo nell'area di servizio San Demetrio. Appare anche strategica la scelta operativa dell'area di servizio San Demetrio, quale è il luogo predisposto per garantire un'incisiva presenza delle forze dell'ordine, elevandone pertanto il livello di sicurezza in un contesto territoriale già a teatro di numerosi furti consumati su veicoli pesanti in sosta. Nel corso del servizio sono stati controllati 91 veicoli, 84 sono le persone identificate, 3 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa e sono stati anche decurtati 285 punti dalle patenti di guida. Si fa più attenzione alle mascherine che ad allacciare le cinture di sicurezza sulle auto, questa è l'amara constatazione da parte del dirigente della Polstrada di Siracusa, Antonio Capodicasa, a compendio del servizio di controllo eseguito in autostrada. Abbiamo scelto simbolicamente l'area di servizio San Demetrio più volte oggetto di furti. L'autostrada Siracusa-Catania purtroppo è devenuto scenario di troppi incidenti stradali, alcuni con esito mortale, per questo abbiamo deciso di elevare i sistemi di sicurezza. Il tratto tra Augusta e Catania è stato dotato di telecamere di videosorveglianza che consentono ai poliziotti di monitorare tutto il tratto. È importante però, dice Capodicasa, il rispetto alle norme del codice della strada da parte degli automobilisti. E' così la raccomandazione da parte del comandante della Polstrada di allacciare le cinture anche ai passeggeri che occupano i sedili posteriori, di indossare il casco di protezione sulle moto, di utilizzare seggiolini in ritenzione per i bambini, di non assumere alcolici o sostanze psicotrope alla guida e alle vetture. Particolare attenzione è stata fatta dai poliziotti ai bus in viaggio sull'autostrada per verificare il corretto distanziamento a bordo. In una circostanza, tre passeggeri erano sprovvissi la mascherina e sono incappati così nelle sanzioni amministrative.